allora signori miei innanzitutto ben ritrovati quant'altro io non so che cosa devo dire intanto avvio immortal phoenix confermo che devo giocare alla versione playstation 4 su una playstation 5 perché sennò i salvataggi non li legge che cosa è successo ve lo preannuncio già qui vi posterò su instagram e quant'altro perché non posso neanche usare l'acquisizione della playstation 5 perché non vuole non vuole che io registri certe cose non si devono sapere comunque stavo preparando il finale di immortal phoenix appunto sono arrivato alle ultime fasi ho effettuato il combattimento finale che cosa succede che è partito l'ending è partito il video conclusivo bene è crashato è crashato ho perso 40 minuti di registrazione e vabbè fa lo stesso mi sono detto va bene la parte iniziale che l'ho salvata ci facciamo un videozzo e la parte finale la ripeto insieme a voi in live dove sta il problema problema non c'è mentre invece il problema c'è perché ragazzi ho già provato una decina di volte anche con spegnimento e reset della console quindi è proprio un problema del gioco che ripeto per 60 passavore non ci ha mai dato nulla nessun pensiero negativo molto bene in poche parole vi ha fatto un salvataggio automatico proprio sul finale io ho tutti gli altri salvataggi automatici se appunto volessi usare un mio salvataggio manuale andrei in quella zona qui andare in questa zona qui e appunto era la mia idea di rifare il tutto insieme a voi in live molto bene qual è il discorso il discorso è molto semplice noi adesso ci prendiamo l'ultimo salvataggio automatico che è comunque una parte che dovremmo affrontare e questa è la situation godetevelo poi ripeto devo farvi quella registrazione qua da telefono perché appunto la console non tiene in memoria il fatto che sta crashando un gioco e non vuole che tu pubblicizzi una cosa del genere ah ma io tra pubblicizzo lo stesso guarda un po quando parte guarda un po che bellezza benissimo adesso parte il filmatino che non vi spoilerà niente quindi tranquilli anche perché sono tre secondi e poi scoppia tutto scommetti wow è tutto bellissimo perfetto questa sarà la dodicesima volta errore gioco app si è verificato un problema qui puoi visualizzare il problema perché ti tiene la parte di video però non la puoi mostrare non la devi registrare lo sappiamo noi basta il nostro piccolo segreto detto questo ragazzi in poche parole finché non mettono a posto sta puttanata finché non esce un aggiornamento o magari deve io devo riprovare a ripassarmi i salvataggi su play 4 e provare a finirlo su play 4 fino a che non si trova una soluzione il nostro ending di immortal phoenix è bloccato siete felici che bello è dai dai e forte dai e forte che andiamo sempre meglio